carissime carissimi eccoci qui riuniti per un nuovo esperimento dunque vi parlo attraverso la carta della luna perché io sono reduce da un'influenza per cui non oso mostrarmi in video quindi mi servo della faccia della luna mi servo dei cani dei cani o lupi mi servo del granchio e di tutti gli elementi che parlano attraverso la carta della luna per dirvi che con questo video cominciamo a fare l'esperimento delle letture interattive allora io so che è un fenomeno che ecco diciamo è un po dubbio nel senso che io sono molto scettica rispetto alle interattive ovviamente però non ve le propongo con quei titoli che vi promettono di predirvi chissà quale dettaglio della vostra vita amorosa futura assolutamente no quindi rimaniamo fedeli a noi stessi e in realtà è un modo continuare a proporvi delle letture che voi possiate osservare quindi è un modo anche per farvi vedere come io interpreto le carte quindi potete comunque prendere spunto dal modo in cui io collego le carte tra di loro però è anche un modo per vedere se effettivamente grazie alla sincronicità possiamo trovare riscontro in una lettura interattiva fatta da qualcun altro con più di una opzione infatti io che cosa farò oggi selezionerò tre alleati andrò ad approfondirli e voi semplicemente poi mi direte se vi trovate a risuonare con uno di questi alleati potrebbe anche essere che vi sentite risuonare con tutti e tre oppure con due su tre oppure ovviamente esiste anche la possibilità che non vi sentiate risuonare con nessuna delle possibilità delle letture che io sto per andare a fare però in ogni caso avrete comunque assistito ad un esempio di lettura con arcani maggiori arcani minori e quindi voglio dire male non fa se state cercando di imparare ad interpretare i tarocchi con un metodo tarologico appunto proposto dai miei video allora cominciamo subito e come funziona praticamente usiamo lo stesso schema che vi ho proposto nell'ultimo video quindi adesso andiamo a a pescare tre alleati tre possibili alleati quindi il tuo possibile alleato del momento ne pescherò tre li approfondirò ve li descriverò tutti e tre e vedremo se avranno senso per voi se troverete senso in uno di questi alleati io ovviamente spero di sì e tra l'altro spero di trovare anch'io uno o più alleati di questa triade che mi possono dare soddisfazione quindi il primo il secondo e il terzo allora il primo è la papessa il secondo è la luna e il terzo è la giustizia quindi per ora mettiamo via giustizia e luna e approfondiamo la papessa con gli arcani minori quindi facciamo posto mamma mia quanto è complicato fare queste interattive io ogni tanto le seguo seguo quelle degli altri perché appunto mi diverte molto questa cioè il fatto che i titoli delle interattive sono effettivamente irresistibili perché anche se lo consideri come un gioco comunque è veramente difficile non cliccare anche solo per curiosità e io appunto ogni tanto lo faccio e mi rilassa molto sentire poi tutte queste spiegazioni che a volte non hanno alcun senso cioè voglio dire perché magari chi fa queste interattive fa dei ragionamenti magari anche astrologici che però io non riesco a capire il senso che hanno cioè nel senso che non trovo riscontro rispetto alle informazioni che ho io però comunque rispetto per per chiunque faccia qualsiasi cosa pur che lo faccia con un minimo di onestà allora no non ero concentrata approfondiamo la papessa allora la papessa ovviamente come alleato di che cosa ci parla la papessa ci parla di un raccoglimento di un nuovo progetto ma anche del fatto che potremmo accorgerci di avere appena concepito una nuova idea concepito magari una nuova idea di noi stessi quindi attenzione con la papessa perché la papessa potrebbe anche essere scoprire di essere innamorati può anche essere quello stato successivo al colpo di fulmine so che sembra strano però davvero sapete quando intravedete una persona conoscete una persona ne rimanete folgorati tra voi questa persona ancora non è successo niente l'altra persona magari neanche vi ha notato ma voi siete così cioè siete così folgorati da questa persona dalla presenza dall'esistenza di questo essere ma può anche essere la scoperta di una nuova passione la scoperta di un nuovo lavoro che magari non vi immaginavate essere così entusiasmante perché a volte accade anche questo insomma la scoperta di un qualcosa da amare che non che prima non amavate perché non conoscevate è come se la papessa potesse indicare il fatto di essere stati fecondati da un nuovo amore che poi può declinarsi in qualsiasi modo come una nuova relazione un nuovo lavoro appunto una nuova attività con le campane una nuova passione eccetera eccetera un nuovo progetto ovviamente per esempio il progetto di un libro l'ispirazione per scrivere un libro in ogni caso una nuova folgorazione che fa cominciare una preparazione vi fa ritirare nel vostro mondo a raccogliere le vostre energie tra l'altro questa è una carta che nonostante parli di castità in un certo senso perché è la papessa quindi vi ricordo che anche le sue carni così bianche ci parlano comunque del trattenimento di certe pulsioni ma in realtà proprio perché lei trattiene queste pulsioni le accumula tantissimo quindi lei accumula tantissimo desiderio è una carta che parla molto di un desiderio che non viene consumato come dire in modo sbrigativo ma viene accumulato quindi diventa un desiderio potentissimo infatti vi ricordo questo pene enorme che chiude racchiude la testa della nostra papessa quindi è come se sigillasse i suoi pensieri quindi i suoi pensieri sono comunque desideranti il suo progetto qualsiasi progetto sia quello che lei sta covando è un progetto estremamente legato al desiderio quindi qui si parla di desiderio di una progettualità comunque voluta è una carta splendida allora andiamo ad approfondirla vediamo più nello specifico che cosa sta covando che cosa tiene tra le mani cosa sta leggendo cosa quindi deve approfondire sì direi che due carte sono sufficienti per per approfondire la nostra papessa allora l'uovo due carte di denari quindi questo conferma in un certo senso anche la sensualità di questa specifica papessa perché comunque i denari sono legati proprio alla materia al presente a ciò che si tocca anche proprio ai sensi e cinque sensi quindi probabilmente questo progetto è un progetto che innanzitutto chiedere chiede davvero di essere realizzato chiede di essere messo in pratica quindi forse è un progetto che è già stato magari pensato a lungo e che adesso chiede di essere realizzato praticamente questo uovo è l'uovo del presente l'uovo della realtà materiale in sé quindi è molto importante come uovo è come se questa papessa dovesse partorire una nuova realtà materiale un nuovo presente quindi questo può significare qualsiasi cosa una nuova casa un nuovo luogo in cui vivere una nuova relazione un nuovo rapporto con il cibo un nuovo rapporto con il tempo una nuova realtà questa è tutta la realtà materiale nella sua completezza quindi davvero è come se questa idea potesse poi nella sua realizzazione portare davvero ad una nuova vita una nuova realtà a livello radicale quindi è importante questo progetto qualsiasi progetto sia e che cosa sta studiando la nostra papessa che cosa tiene tra le mani la zoomata sul libro della papessa è il tre di denari quindi allora probabilmente mi viene da dire che forse sta studiando una fase della sua vita in cui è stata impulsiva una fase della sua vita in cui non era ancora capace di stabilità forse deve ancora comprendere quella fase della sua vita forse legata all'adolescenza perché sapete che il tre è sempre legato all'adolescenza ma perché dico una fase della sua vita perché parlo al passato perché il fatto che come dire quello che poi quello che sta covando è l'asso quindi una nuova realtà la realtà totale e invece ciò che tiene tra le mani è solo un tre quindi siamo ancora in un stadio molto acerbo mi fa pensare che forse questa papessa sta finalmente capendo comprendendo alcuni blocchi alcune questioni legate alla percezione della realtà che la rimandano alla sua gioventù alla sua giovinezza a qualcosa di cui in gioventù non riusciva a godere ad una realtà alla realtà che in gioventù non riusciva a godere vivere apprezzare ecco forse analizzando comprendendo tornando alla memoria scandagliando queste fasi giovanili forse può rivalutare la propria percezione della realtà e questo progetto che ha tra le mani è un progetto che la farà sentire come dire cresciuta le farà capire che è cambiata che c'è stato uno sviluppo che c'è stato uno sviluppo e capendo che c'è stato uno sviluppo potrà effettivamente rinascere e tornare paradossalmente all'uno all'unità anche perché vi ricordo che la papessa è comunque il due quindi una sorta di cioè comunque presente il concetto della dualità della separazione del non sono più nell'uno sono nel due io e te l'accumulo che quindi è qualcosa diverso dall'uno mentre ciò che deve partorire è una nuova unità quindi deve prima fare i conti comunque con una frammentazione adolescenziale è come se dovesse rielaborare questa frammentazione adolescenziale attraverso l'accumulo per poi tornare uno tornare uovo tornare realtà totale accettazione totale bene passiamo ora alla luna secondo alleato possibile interattivo secondo alleato possibile interattivo la luna quindi andiamo ad approfondire ma prima vi ricordo che la luna è il grande principio femminile quindi luna vi ricordo che oggi c'era una luna ieri e oggi una luna in pesci molto potente che oggi si è congiunta a Nettuno quindi un incontro in pesci una luna cioè dire mistica è poco io ho fatto dei sogni dei sogni epici ma che veramente vabbè lasciamo perdere perché poi io ho la luna in pesci quindi questo incontro è avvenuto proprio risvegliando la mia luna comunque femminilità grande principio femminile la perfezione cosmica dello scambio della perfezione e della simmetria tra sopra e sotto vedete che c'è è come se ci fosse un otto che non è rappresentato ma che possiamo immaginare nelle correnti di energia e di scambio tra i personaggi di questa carta quindi una carta che ci parla di una forma di perfezione che però è la perfezione della natura non è la perfezione mortifera dell'essere umano la perfezione dell'essere umano è la perfezione della morte è una perfezione artificiale è una perfezione che impoverisce mentre quella della natura è la perfezione di tutto ciò che è quindi ispirazioni certo potrebbe anche rappresentare un'illusione ma stiamo parlando di alleati carte alleate quindi chiaramente andiamo a sottolineare soprattutto gli aspetti più brillanti più magnifici di queste carte che vanno a rafforzarci a fortificarci quindi della luna ovviamente noi andiamo a sottolineare il fatto che ci ispiri che ci nutra che ci arrivino queste gocce che queste perle ci vengano consegnate magari sotto forma di sogni quindi suggerimenti magari a volte anche sconvolgenti non so se vi è mai capitato di fare un sogno e poi che questo sogno incida davvero sulla vostra vita in modo positivo nel senso che vi riveli qualcosa non parlo solo di sogni premonitori ma anche proprio dei sogni che vi fanno capire qualcosa che cambia tutto a me succede molto spesso perché appunto ho questa luna in pesci che mi fa sognare tantissimo e quindi vabbè se sogni tantissimo chiaramente a un certo punto ti viene anche voglia di lavorare con i sogni e quindi più lavori poi con i sogni più poi ti è facile ottenere dei vantaggi concreti nel senso che riesci a farci qualcosa con questi sogni allora vediamo io voglio proprio estrarre una carta per le gocce quindi per il nutrimento che stanno assorbendo la metto qui la carta per non coprire la luna ma comunque la carta che corrisponde alle gocce rosse che nutrono i cani e poi una carta che vada a rappresentare le perle la metto dall'altra parte ma sappiate che mi riferisco alle perle che vengono estratte come dono dalla ragosta dal granchio quindi che cosa emerge e che cosa nutre molto interessante perché abbiamo prima avevamo due carte di denari e adesso abbiamo due carte di bastoni quindi nel caso della della papessa si trattava del rapporto con la realtà materiale e in questo caso invece abbiamo il rapporto con l'energia sessuale creativa quindi chi si sente oggi particolarmente in linea con la luna probabilmente ha bisogno comunque particolarmente indicato lavorare e ricevere energia a livello creativo sessuale allora queste gocce nutritive della luna che tra l'altro effettivamente potete proprio immaginare che siano delle gocce che ricevete dalla luna stasera uscite sul vostro balcone oppure andate a fare una passeggiata stasera quando è abbastanza buio da sentire il tutto più credibile o forse anche per non essere visti e aprite la bocca e immaginate che la luna vi invii queste gocce rosse perché queste gocce rosse rappresenteranno la stabilità creativo sessuale abbiamo un quattro di bastoni quindi la capacità anche di reggere l'energia creativa sessuale quindi se ci sono problemi per esempio legati alla sfera sessuale nel senso che sia magari molto incostanti che sia un desiderio sessuale molto latente oppure frettoloso poco appagante ecco si può essere nutriti da questa luna con una stabilità con una nuova con più struttura desiderante quindi con un desiderio che sappia reggere anche nel tempo non soltanto a livello sessuale ma voglio dire anche a livello creativo per portare a termine un progetto c'è bisogno di avere un desiderio creativo che regga che ci motivi fino in fondo altrimenti se si spegne certo uno si può incaponire intellettualmente ma se ti abbandona la creatività poi il progetto magari lo finisci ma non lo finisci con la qualità che avrebbe potuto avere se tu avessi avuto ancora quel fuoco acceso quindi stabilità nel desiderio un desiderio stabile forte su cui si può contare anche se ovviamente per sua natura il desiderio non è qualcosa su cui bisogna contare in modo programmatico e sterile e meccanico assolutamente no però comunque una certa stabilità se si vuole arrivare fino in fondo bisogna riuscire ad ottenerla è insomma è bello quando si riesce ad ottenerla quindi possiamo chiedere oggi a questo alleato di nutrirci con la stabilità sessuale creativa mentre che cosa emerge qual è l'intuizione che riceviamo da questa luna che può essere davvero la luna di questi giorni che ci fa fare dei sogni particolari il sei di bastoni il sei di bastoni sempre legato all'energia creativo sessuale invece ci parla proprio del piacere ma addirittura il piacere del piacere cioè goderci il fatto che esiste per noi la possibilità di provare piacere e che se esiste nell'universo la possibilità del piacere del provare il piacere chi siamo noi per non provarlo cioè ma chi siamo noi per negarci il piacere noi siamo qui per provare piacere quindi assolutamente vi auguro di avere questa intuizione perché questa intuizione libera libera a tanti livelli sicuramente va bene a livello sessuale ma a livello creativo e una volta che siamo liberati a livello creativo quanto cambia la nostra vita quanto ci libera nella nostra vita nell'affrontare qualsiasi bega quotidiana quanto è liberatorio sapere che noi abbiamo accesso al piacere e che dipende da noi perché si dipende da noi perché questa intuizione è un'intuizione che quando l'abbiamo riesce a rendere piacevole non lo so qualsiasi cosa riesce a rendere erotica qualsiasi situazione per esempio oppure riesce a rendere qualsiasi cosa come degna di ispirazione capite è proprio un cambiamento di prospettiva questo è il potere delle intuizioni che è il potere di queste perle che vengono offerte alla luce della luna bene passiamo alla passiamo alla giustizia abbiamo ovviamente reintegrato le carte appena usate agli arcani minori allora la giustizia come al solito ci parla di una perfezione umana tra l'altro giustizia è la controparte della luna quindi è sempre un materno ma è un materno umano quindi sempre un femminile sempre una forma di perfezione ma di nuovo ci sottolinea però l'importanza che sia una perfezione umana quindi un'eccellenza e non una mania di cioè di perfezione di controllo che sono sempre illusioni sempre illusioni non è mai non è mai lo sforzo ad ottenere la bellezza mi spiace molto ma non è così non è così cioè in realtà per fortuna perché appunto la bellezza è figlia del piacere mi spiace e anche se vogliono farci credere per esempio a scuola che la bellezza l'eccellenza si ottengono soltanto con lo sputare sangue dallo sforzo in realtà la bellezza lo stato di grazia le cose che davvero ci colpiscono sono nate sì magari da uno sforzo ma è uno sforzo fatto però con piacere perché lo sforzo non è che è separato dal piacere spesso le cose difficili però sono le più belle da fare non so come dire ecco vabbè spero di essermi spiegata quindi la giustizia che cosa ci ricorda appunto di aggiustare il tiro per l'eccellenza e di mediare tra gli opposti con la nobiltà vedete che questo che sembra essere quasi un terzo piattino scomposto vedete abbiamo due piattini e poi al centro abbiamo come due ingredienti che sembrano ricordare i piattini ma sono un po' diversi quindi uno è un piattino simbolico nel mezzo e l'azzurro che va andrebbe a comporre questo terzo piattino ricorda una pelliccia una pelliccia regale quindi ecco questo questo elemento nel mezzo ci ricorda di mediare con una nobiltà d'animo quindi di non essere sterili nel nostro esercizio del controllo e appunto della smania di perfezione soppesare quindi sì assolutamente senso di giustizia però con animo nobile nei confronti degli altri e nei confronti di noi stessi questo è importantissimo questa carta esce spesso a chi è giusto con gli altri ma è ingiusto con se stessi e quindi è ingiusto sappiate che ogni volta che fate un torto a voi stessi siete persone ingiuste ecco cominciate a vederla in questo modo e vedrete che forse sarà più facile pretendere il rispetto che tutti meritano quindi perché voi non dovreste meritarlo e poi naturalmente la spada per tagliare ciò che non è necessario ecco senza drammi però tagliamo ciò che non è necessario quindi allora io andrei a pescare sempre due carte ma perché non mi metto a fuoco adesso la mia giustizia allora andrei a pescare una carta per la spada quindi cosa tagliare e poi una carta per il pezzetto regale quindi per la nobiltà d'animo allora due di coppe e paggio di spade bene mentre le campane finiscono di scampanare allora dunque in che senso la spada è rappresentata dal due di coppe nel senso che io vedo questa nostra giustizia come pronta a indicarci come dire che l'accumulo di emozioni può avere termine cioè questo accumulo di emozioni ha bisogno di essere spurgato affrontato tagliato in un certo senso che non significa tagliare le emozioni bloccarle questa non è mai una buona idea a meno che non siano delle emozioni così distruttive che c'è bisogno davvero di addirittura utilizzare un blocco magari addirittura meccanico nel senso per esempio non lo so impedirsi di uscire di casa per non avere reazioni impulsive a un certo a un certo evento non lo so penso a situazioni limite ma credo che questa giustizia ci stia parlando proprio di un affrontare un accumulo di emozioni e una conseguente idealizzazione molto pericolosa che siamo pronti ad affrontare siamo pronti a porre termine a questo accumulo continuo che autoalimenta queste idee queste idealizzazioni perché chiaramente più noi alimentiamo il fuoco di queste emozioni acerbe che si accumulano e diventano fantasie ed idealizzazioni più l'idealizzazione cresce diventa quasi mostruosa abnorme e poi è più difficile da affrontare e anche da demolire perché poi la realtà è un conto e le idealizzazioni emotive sono un altro quindi siamo pronti in un certo senso ad affrontare la realtà a tagliare i fronzoli dall'altra parte invece interessantissimo il fatto che siamo andati ad approfondire questo triangolo con questo genere di fantasia regale ed è uscita questa figura cioè il paggio di spade che presenta all'interno del proprio mantello proprio le stesse la stessa fantasia allora io qui la vedo come una prova perché allora noi che cosa abbiamo pescato l'elemento che ci suggerisca come soppesare i dati di questa situazione che noi dobbiamo affrontare qualsiasi essa sia allora questa situazione è come se noi fossimo pronti ad affrontarla con la nostra moralità con la nostra nobiltà d'animo quindi io la faccio corrispondere al nostro senso etico e morale quindi è come se noi siamo come se noi fossimo pronti a livello etico e morale quindi noi siamo in grado di giudicare in modo corretto gli eventi siamo in grado siamo abbastanza maturi ma dubitiamo quindi siamo paggi siamo incerti perché forse è la prima volta che osiamo mettere davvero in pratica il nostro senso etico morale su questa questione forse non ci siamo mai espressi non abbiamo mai osato dire la nostra su questa questione e invece qui si tratta di parlare di verbalizzare di esprimere usare il nostro intelletto attivamente quindi noi stiamo ancora dubitando perché ci sentiamo inesperti in questa attività ma dobbiamo ricordarci che abbiamo le qualità per farlo perché la qualità che serve in questa attività è una qualità interiore che dipende poco dall'esperienza l'esperienza ci serve per imparare a gestire a esercitare questa nostra qualità interiore ma questa qualità interiore noi ce l'abbiamo perché è intrinseca è innata quindi non dobbiamo dubitarne noi abbiamo la qualità interiore necessaria per giudicare la situazione ecco non giudicare le persone le cose ma la situazione o le situazioni che dobbiamo giudicare sulle quali dobbiamo prendere decisioni quindi abbiamo tutte le qualità interiori che ci servono per procedere con questa operazione che sicuramente è delicata ma noi scopriremo di esserne degni e diventeremo più sicuri di noi stessi l'importante è metterci alla prova non dobbiamo avere paura di metterci alla prova in questa questione delicata qualunque essa sia probabilmente è una questione di esercizio del nostro spirito critico bene allora vi ripropongo i tre alleati quindi erano appunto la giustizia la luna e la papessa quindi tre carte assolutamente legate al femminile spero che almeno una di queste carte vi abbia come dire parlato in qualche modo spero che almeno una delle osservazioni fatte su queste carte vi abbia fatto fare un qualche genere di click fatemelo sapere ovviamente bene ci vediamo con il prossimo video che non so di che genere sarà magari sarà proprio un'altra interattiva perché ormai ci sto prendendo gusto voi ricordatevi che se morite e dà la voglia di offrirmi un caffè o una pignacolada potete farlo con un'offerta su cofai che è il primo link che trovate nell'info box seguitemi ovunque vogliatemi bene sapete che siete ovviamente ricambiati alla prossima